Filippi, ancora Maggini, Marini per Rugolo che guarda il cronometro e tiene palla. Ancora Rugolo, prova a servire Passoni e poi fischio, fischio veramente scandaloso del direttore di gara che fischia il fallo di sfondamento di Rugolo. Rugolo, Maggini che tenta e lo vende Passoni! No! Lorenzo Passoni fanno scadere, tenta il tiro della vittoria, ma... Annulla il canestro il direttore di gara, incredibile!